Poi scendiamo anche a commentare l'attualità come sempre con il nostro filosofo e saggista di riferimento Diego Fusaro. Ciao ben ritrovato. Un caro saluto da Diego Fusaro e buona domenica. Allora commentavamo anche fuori onda questa notizia di Biden e Starmer quindi rispettivamente ovviamente il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico che è il Starman che hanno ribadito il loro sostegno all'Ucraina. All'Ucraina che continua a difendersi contro l'aggressione della Russia. Che ne pensi? Già difficile pensare che possa essere un mondo migliore come cantava Vascorosi quello in cui si va sempre più verso la guerra a tutti gli effetti. Un passo alla volta con lenta ma costante continuità si va in questa direzione. Adesso l'ultima novità è quella per cui gli Stati Uniti d'America e Joe Biden stanno di fatto progettando di lasciare il via libera all'Ucraina per usare i missili contro la Russia di Putin. Questa è la novità sdegna di rilievo. Dunque siamo a tutti gli effetti al cospetto di una guerra che non è più semplicemente la guerra di difesa dell'Ucraina invada dalla Russia ma è altresì una guerra con cui l'Ucraina sta a propria volta attaccando la Russia. Già da settimane Zelensky ha occupato territori russi e adesso se dovesse utilizzare i missili contro la Russia come vuole concedere Biden e con lui molti altri stati dell'Europa sempre più soggiogata alla potenza della civiltà del dollaro ebbene a quel punto ci troveremo davvero in guerra a tutti gli aspetti. L'ha detto anche Putin nei giorni scorsi. Se l'Ucraina userà i missili contro la Russia allora la Nato sarà in guerra contro di noi e questo dovrebbe svelarci una volta di più quello che in realtà era evidente da subito forse non a tutti e cioè il fatto che questa non è la guerra dell'Ucraina e della Russia e non è nemmeno la guerra della Russia contro l'Ucraina. Questa è a poter essere precisi la guerra della Nato contro la Russia una guerra preparata fin dagli anni novanta che ora giunge a compimento ed è una guerra cagionata dal fatto che la Russia di Putin rappresenta una resistenza al nuovo ordine mondiale liberale atlantista e proprio per questo Washington aspira a colpire la Russia a farla capitolare e a normalizzarla sotto ogni profilo. Dunque siamo nel pieno della guerra. Ecco noi siamo comunque coinvolti indirettamente lo abbiamo capito ma secondo te ci sarà insomma il pericolo di un coinvolgimento diretto dell'Italia sopra dell'Europa. A dire il vero l'Italia è stato l'unico o forse uno dei pochissimi paesi europei che ha posto dei limiti. Tajani nei giorni scorsi ha detto che l'Italia non concederà l'autorizzazione a Kiev a usare i missili contro la Russia di Putin. Bisogna capire per quanto l'Italia riuscirà a mantenere questa posizione. Sarà anche difficile capire se avrà un peso specifico in tutto questo l'Italia e però va sottolineato che per ora almeno si è opposta a questa risoluzione. Avrebbe dovuto in verità opporsi fin da subito all'invio delle armi in Ucraina perché anche un bambino può capire che dire che si vuole produrre la pace mandando le armi è l'equivalente dell'agire di quel medico che dicesse che vuole combattere il diabete somministrando dosi di zucchero o di quel pompiere che volesse spegnere l'incendio con le tanniche di benzina. E però l'Italia da subito è stata protagonista nell'invio di armi all'Ucraina e ora prova a tirare il freno d'emergenza forse si accorta meglio tardi che mai dove stiamo andando. Benissimo grazie mille a Diego Fusaro io vi ricordo che potete anche andare a scoprire live e quindi a incontrarlo live venerdì alle diciannove quindi venerdì venti settembre alle diciannove presso il cortile di Picchio News in quel di Macerata quindi in corso orale pubblica dieci con la presentazione del libro Demofobia. Destra e sinistra la finta alternanza e la volontà di schiacciare il popolo. Edito da Rizzoli. Grazie mille Diego allora venerdì. Grazie ci vediamo venerdì a Macerata. Un caro saluto da Diego Fusaro. A casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Radiolinea numero uno. La radio che ascolti e vedi.